Lezione 1. Cordiali saluti. Ciao Anna, è un piacere conoscerti. Come stai? Ciao John, anche per me è stato un piacere conoscerti. Sto bene, grazie. Tu che ne dici? Sto benissimo, grazie per averlo chiesto. Allora, raccontami un po' di te. Certo. Sono originario della Germania, ma vivo negli Stati Uniti da cinque anni. Interessante. Cosa ti ha portato negli Stati Uniti? Sono venuto qui per proseguire gli studi superiori. Attualmente sto studiando informatica all'università. È fantastico. L'informatica è un campo affascinante. Cosa ti ha spinto a sceglierlo? Sono sempre stato attratto dalla tecnologia e dalla risoluzione dei problemi. L'informatica mi è sembrata la soluzione perfetta per me. Meraviglioso. È importante perseguire ciò che ci appassiona. Quali sono i tuoi altri interessi? Oltre all'informatica, mi piace fare escursioni, fotografare e leggere romanzi gialli. Sembrano dei grandi hobby. Mi piace anche fare escursioni e leggere. Autori preferiti? Agatha Christie è un classico. Anche a me piacciono i suoi romanzi. Hai letto qualcuno dei suoi lavori famosi? Assolutamente. Murder on the Orient Express e End Ender Wernan sono tra i miei preferiti. Sono scelte eccellenti. Le trame intricate e i colpi di scena inaspettati rendono i suoi libri così accattivanti. Davvero? Le sue capacità di narrazione sono notevoli. Hai autori o libri preferiti? Sono un fan di J.R.R. Tolkien. La serie Il Signore degli Anelli è una delle mie preferite. È fantastico. I romanzi fantasy possono trasportarci in mondi magici. Ho sentito cose meravigliose sulle opere di Tolkien. Sì, la sua costruzione del mondo e l'attenzione ai dettagli sono davvero notevoli. Allora, quali sono i tuoi piani futuri dopo aver completato gli studi? È impressionante. L'intelligenza artificiale è un campo in rapida evoluzione con un potenziale immenso. Sono sicuro che darai un contributo significativo. Grazie per le tue gentili parole. Sono entusiasta delle possibilità e delle sfide che ci attendono. Siete i benvenuti. È stato un piacere conoscerti. Sono lieto che abbiamo avuto questa conversazione. Allo stesso modo. È stata una conversazione deliziosa. Attendo con impazienza discussioni più coinvolgenti in futuro. Assolutamente. Rimaniamo connessi e continuiamo a esplorare insieme argomenti interessanti. Sembra un piano. Grazie per questa piacevole conversazione. Abbi cura di te. Anche tu. Abbi cura di te e buona giornata. Arrivederci per ora. Lezione 2. Scelte alimentari sane per il diabete. Ciao Anna. Ho cercato opzioni alimentari salutari per le persone con diabete. Hai qualche consiglio? Ciao John. Assolutamente. Ci sono molte scelte nutrienti. Un esempio sono le verdure a foglia verde come spinaci e cavoli. Le verdure a foglia verde sono ottime fonti di vitamine e minerali. Che mi dici della frutta? Ce ne sono di particolarmente utili? Sì, i frutti come i frutti di bosco, come fragole e mirtili, sono a basso contenuto di zuccheri e ricchi di antiossidanti. Questo è buono a sapersi. Gli antiossidanti possono aiutare a ridurre l'infiammazione e proteggere dai danni cellulari. Che ne dici delle proteine? Le fonti magre di proteine come pollo, tacchino e pesce sono opzioni eccellenti. Forniscono nutrienti essenziali senza grassi eccessivi. Includere proteine nei pasti può aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Ci sono cereali o carboidrati specifici su cui concentrarsi? I cereali integrali come la quinoa, il riso integrale e il pane integrale sono preferibili ai cereali raffinati. Forniscono più fibre e sostanze nutritive. La fibra è nota per aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue e promuovere la salute dell'apparato digerente. Esistono grassi considerati salutari per i diabetici? Sì, le fonti di grassi sani includono avocado, noci e olio d'oliva. Questi grassi sono utili per la salute del cuore e il benessere generale. È importante scegliere grassi sani con moderazione. Che ne dici dei prodotti lattiero-caseari? Ce ne sono di migliori per i diabetici? Le opzioni lattiero-caseari a basso contenuto di grassi come il latte scremato e lo yogurt greco sono buone scelte. Forniscono calcio e proteine senza grassi saturi eccessivi. Questo è buono a sapersi. Il calcio è essenziale per la salute delle ossa. Esistono alimenti specifici da evitare o limitare per i diabetici? Si raccomanda di limitare gli alimenti trasformati, le bevande zuccherate e gli alimenti ricchi di grassi saturi e trans. Questi possono avere un impatto negativo sul controllo della glicemia. Evitare o ridurre al minimo questi alimenti può contribuire a migliorare la salute generale. Ci sono altri suggerimenti per la gestione del diabete attraverso la dieta? Il controllo delle porzioni è importante. È anche utile distribuire pasti e spuntini durante il giorno per mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue. Questo ha senso. Mangiare pasti più piccoli ed equilibrati a intervalli regolari può aiutare a prevenire picchi e cali di zucchero nel sangue. Ci sono altri fattori legati allo stile di vita da considerare? L'attività fisica regolare è fondamentale per la gestione del diabete. Aiuta a migliorare la sensibilità all'insulina e la salute generale. L'esercizio fisico è davvero utile per tutti, compresi quelli con diabete. È importante trovare attività che ci piacciono e che possiamo sostenere. Ci sono considerazioni o risorse finali che mi consigliate? È sempre una buona idea consultare un operatore sanitario o un dietista registrato per una consulenza personalizzata. Possono fornire consigli personalizzati in base alle esigenze individuali. Questo è un ottimo suggerimento. L'orientamento professionale può fare una differenza significativa. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Lezione 3. Esplorazione dei ristoranti popolari Ciao, Anna. Ho sentito che c'è un famoso ristorante proprio dietro l'angolo. Ci sei mai stato? Ciao, John. Sì, ci sono stato un paio di volte. È piuttosto popolare tra la gente del posto. È fantastico. Che tipo di cibo servono? C'è un piatto specifico che mi consigliate? Servono una varietà di cucine, ma la loro specialità è il cibo messicano. Consiglio vivamente di provare i loro tacos. Il cibo messicano sembra delizioso. I loro tacos sono piccanti? Non mi piacciono molto i cibi estremamente piccanti. Offrono una gamma di livelli di piccantezza, quindi puoi scegliere in base alle tue preferenze. Hanno anche opzioni lievi. Questo è buono a sapersi. Apprezzo la possibilità di scegliere. Sono disponibili anche opzioni vegetariane? Assolutamente. Hanno tacos vegetariani con ripieni saporiti come verdure e fagioli grigliati. Sono piuttosto gustosi. È fantastico. Sono lieto che soddisfino diverse preferenze alimentari. Il ristorante è noto per la sua atmosfera o per le sue caratteristiche uniche? Sì, il posto ha un'atmosfera vivace e colorata. In alcune serate hanno anche spettacoli di musica dal vivo, il che aumenta l'esperienza. Sembra un'atmosfera vivace. Deve essere un ottimo posto per godersi un pasto e divertirsi. Di solito è affollato? Può essere affollato, soprattutto nelle ore di punta. È un posto molto frequentato, quindi è consigliabile effettuare una prenotazione o andare presto. Lo terrò a mente. Grazie per il suggerimento. Ci sono altri ristoranti famosi nella zona che consiglieresti? Sì, c'è un'accogliente caffetteria nelle vicinanze che serve ottimi dolci e caffè speciali. È il luogo perfetto per uno spuntino veloce o una pausa rilassante. Adoro i dolci e il caffè. Quali sono alcuni degli articoli da provare al bar? I loro croissant sono assolutamente deliziosi, soprattutto i croissant alle mandorle. E i loro caffellatte sono preparati con chicchi di caffè appena preparati. Sembra paradisiaco. Sicuramente farò in modo di visitare anche quel caffè. Ci sono altre gemme nascoste che conosci nel quartiere? C'è un piccolo ristorante italiano a conduzione familiare a pochi isolati di distanza. Servono autentici piatti di pasta fatta in casa che sono assolutamente divini. Sono un grande fan della cucina italiana. La pasta fatta in casa sembra incredibile. Hanno dei piatti eccezionali da non perdere? Le loro lasagne e carbonara sono altamente raccomandate. I sapori sono ricchi e le porzioni sono generose. Non posso resistere a una buona lasagna o carbonara. Sicuramente darò un'occhiata anche a quel ristorante. Grazie per aver condiviso questi consigli. Lezione 4 Termini di pagamento flessibili Salve Anna, sto pensando di effettuare un acquisto, ma cerco flessibilità nei termini di pagamento. Che tipo di flessibilità stai cercando? Ciao John, sto cercando opzioni che mi consentano di pagare a rate anziché in un'unica soluzione. Mi aiuta a gestire il mio budget. Capisco. Molte aziende offrono piani rateali al giorno d'oggi. Hai pensato di contattare il venditore per discutere delle opzioni di pagamento? Questa è una buona idea. Li contatterò sicuramente per chiedere informazioni sui piani di rateizzazione. È importante chiarire i termini e le condizioni. Assolutamente. È fondamentale avere una chiara comprensione del calendario dei pagamenti, dei tassi di interesse e delle eventuali commissioni aggiuntive. Hai pensato alla durata delle rate? Sì, preferisco rate di durata più breve, ad esempio sei mesi o un anno. In questo modo, posso cancellare il pagamento prima ed evitare impegni a lungo termine. Le durate più brevi possono effettivamente offrire maggiore flessibilità e rimborsi più rapidi. Avete preso in considerazione anche la possibilità di negoziare il tasso di interesse? Sì, credo che valga la pena discutere del tasso di interesse con il venditore. Tassi di interesse più bassi possono rendere più gestibile il pagamento complessivo. La negoziazione del tasso di interesse è un'ottima strategia. Chiedere non fa male e a volte i venditori sono disposti a modificare le condizioni. Hai trovato piani di pagamento specifici che hanno attirato la tua attenzione? Sì, ho incontrato alcune aziende che offrono piani di rateizzazione dello 0% per un determinato periodo. È piuttosto allettante. I piani di interesse 0% possono essere vantaggiosi, soprattutto se è possibile saldare il saldo entro il periodo senza interessi. Hai pensato a dei piani di backup se le opzioni di rateizzazione non sono disponibili? Sì, se i piani rateali non sono fattibili, potrei prendere in considerazione l'utilizzo di una carta di credito che offre un periodo senza interessi più lungo per ripartire i pagamenti. Questa è una buona alternativa. Molte carte di credito offrono offerte promozionali con periodi prolungati senza interessi. Hai controllato i termini e le condizioni della tua carta di credito? Oh, e fortunatamente la mia carta di credito offre tali offerte promozionali. È sempre importante rivedere i termini e assicurarsi che non vi siano costi nascosti. Questa è un'ottima notizia. È essenziale comprendere a fondo i termini e le condizioni prima di procedere con qualsiasi piano di pagamento. Hai pensato di chiedere consiglio a un consulente finanziario? Sì, penso che consultare un consulente finanziario sarebbe utile. Possono fornire una guida esperta e aiutarmi a prendere una decisione informata. Cercare una consulenza professionale è una scelta saggia. Un consulente finanziario può valutare la tua situazione e consigliarti le migliori opzioni di pagamento per le tue esigenze specifiche. Hai trovato risorse o siti web che forniscono informazioni sulle opzioni di pagamento flessibili? Sì, ho trovato alcuni siti web che confrontano diverse opzioni di pagamento e forniscono approfondimenti sui piani di pagamento flessibili. Vale la pena esplorarli per ulteriori informazioni. È fantastico. Le risorse online possono essere uno strumento prezioso per la ricerca delle opzioni di pagamento. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Lezione 5. Sfortunato incidente d'auto. Ciao Anna. Sembri infelice. Cosa è successo? Ciao John. È la mia macchina. Ieri mio nipote l'ha accidentalmente ammaccata mentre giocava. Oh no, è un peccato. Il danno è grave? Può essere riparato facilmente? L'ammaccatura è abbastanza evidente e richiederà riparazioni professionali. Non sono sicuro di quanto tempo ci vorrà o quanto costerà. Questo è comprensibile. Gli incidenti accadono, specialmente con i bambini in giro. Hai contattato un'officina per un preventivo? Sì, ho già contattato alcune officine di riparazione della zona. Attendo la loro risposta con i costi e i tempi. È positivo che tu agisca prontamente. Ottenere più stime ti aiuterà a prendere una decisione informata. Hai idea di come sia avvenuta l'ammaccatura? È successo quando mio nipote ha colpito accidentalmente l'auto con una palla mentre giocava nel vialetto. È stato un incidente inaspettato. I bambini possono essere imprevedibili a volte. Spero che tuo nipote stia bene. Hai pensato di coinvolgere la tua compagnia assicurativa nel processo? Per fortuna mio nipote sta bene. Per quanto riguarda l'assicurazione, ho intenzione di contattarli oggi per discutere della situazione e vedere se possono coprire le riparazioni. È una mossa intelligente. La tua polizza assicurativa potrebbe fornire una copertura per tali incidenti. Assicurati di raccogliere tutta la documentazione necessaria per il reclamo. Assolutamente. Raccoglierò tutte le informazioni e i documenti richiesti prima di contattare la compagnia assicurativa. È importante fornire dettagli accurati. Una buona idea. In questo modo, il processo di reclamo sarà più agevole. Mentre la tua auto viene riparata, hai un piano di trasporto alternativo? Sto pensando di noleggiare un'auto durante il periodo di riparazione. Mi aiuterà a continuare con le mie attività quotidiane senza gravi interruzioni. Noleggiare un'auto è una soluzione pratica. Ti consente di mantenere la mobilità finché la tua auto non sarà pronta. Hai verificato le opzioni di noleggio nella tua zona? Sì, ho esaminato le opzioni di noleggio nelle vicinanze. Ci sono alcune rinomate società di autonoleggio con diverse scelte di veicoli e tariffe ragionevoli. Questo è fantastico. Assicurati di leggere attentamente il contratto di noleggio e di comprendere eventuali costi aggiuntivi o requisiti assicurativi. La sicurezza è importante. Assolutamente. Esaminerò attentamente il contratto di noleggio e chiarirò eventuali dubbi prima di finalizzare il noleggio. La sicurezza e la trasparenza sono fondamentali. È bene essere cauti e ben informati. Spero che tutto si risolva senza intoppi e che la tua auto torni presto alle condizioni originali. Grazie, apprezzo il tuo supporto. È sicuramente una battuta da resto inaspettata, ma spero che alla fine tutto si risolva. Siete i benvenuti. Rimani positivo e paziente durante tutto il processo. Se hai bisogno di assistenza o di qualcuno con cui parlare, sono qui per te. Lezione 6. Arrivo a Londra e visite turistiche. Ciao Anna. Sono appena arrivata a Londra alle 10 e 30. È una città bellissima con così tanto da esplorare. Ciao John. Londra è davvero una città affascinante. L'orario del tuo arrivo sembra perfetto per una giornata di visite turistiche. Cosa hai intenzione di visitare per primo? Sto pensando di iniziare con monumenti iconici come il Big Ben e la Torre di Londra. Sono attrazioni imperdibili. Sembra un ottimo piano. Il Big Ben è uno spettacolo impressionante e la Torre di Londra ha così tanta storia. Hai controllato i prezzi dei biglietti per queste attrazioni? Sì, ho fatto delle ricerche prima del mio viaggio. I prezzi dei biglietti variano, ma ne vale la pena per l'esperienza e la possibilità di conoscere la storia di Londra. È sempre bene pianificare in anticipo e avere un'idea dei costi coinvolti. Stai considerando visite guidate o audioguide per un'esperienza più coinvolgente? Lo sto sicuramente considerando. Una visita guidata può fornire spunti preziosi e rendere la visita più coinvolgente. Inoltre, è un ottimo modo per saperne di più sulla città. Assolutamente. Le guide possono condividere storie e fatti interessanti sui monumenti, migliorando la tua esperienza complessiva. Hai esaminato qualche opzione di tour specifica? Sì, ho trovato alcuni tour guidati molto apprezzati online che coprono più attrazioni in una volta sola. Sembrano un modo conveniente per esplorare la città in modo efficiente. Questo è un approccio intelligente, soprattutto se hai poco tempo. Ti consente di vedere di più in un periodo più breve. Hai intenzione di visitare anche qualche museo? Sì, sono interessato a visitare il British Museum e la National Gallery. Hanno collezioni incredibili che mi piacerebbe esplorare. Il British Museum e la National Gallery sono rinomati per i loro manufatti artistici e storage. Assicurati di controllare i loro orari di apertura e le eventuali restrizioni dovute al COVID-19. Assolutamente. Ricontrollerò i loro orari e tutte le linee guida sulla sicurezza prima di andare lì. È importante rimanere informati e dare priorità al proprio benessere. La sicurezza dovrebbe essere sempre una priorità, soprattutto in questi periodi. Godersi i panorami prendendo le necessarie precauzioni garantirà un'esperienza memorabile. Avete intenzione di provare qualche tipo di cucina locale durante la vostra visita? Sicuramente. Non vedo l'ora di provare alcuni piatti tradizionali britannici come fish and chips e un sostanzioso arrosto domenicale. Fa parte dell'esperienza culturale. È un'ottima idea. La cucina britannica ha i suoi sapori unici. Non dimenticare di concederti anche del tè e delle focaccine. È una delizia britannica per antonomasia. Tè e focaccine sono sicuramente sulla mia lista. Non vedo l'ora di godermi una tradizionale esperienza di tè pomeridiano. Qualche consiglio per una buona sala da tè? Ci sono molte deliziose sale da tè a Londra. Il Ritz e il Dorchester sono famosi per i loro lussuosi servizi da tè pomeridiani. Vale la pena prenderli in considerazione. Il Ritz e il Dorchester sembrano opzioni fantastiche. Li esaminerò e farò una prenotazione. Grazie per i suggerimenti. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Spero che vi divertiate ad esplorare Londra e che vi godiate ogni momento del vostro viaggio. Grazie apprezzo i tuoi auguri. Mi assicurerò di sfruttare al massimo il mio tempo qui e creare ricordi duraturi. Abbi cura di te. Lezione 7. Semplificazione dei processi e miglioramento della produttività. Salve Anna. Stavo pensando a come migliorare l'efficienza del nostro team. Possiamo semplificare i processi e ridurre gli sprechi. Ciao John. È un'ottima idea. Un modo è identificare le attività ridondanti ed eliminarle. Possiamo anche automatizzare determinati processi per ridurre il lavoro manuale e risparmiare tempo. Questo ha senso. L'automazione può essere un punto di svolta in termini di produttività. Hai preso in considerazione attività specifiche che possono essere automatizzate? Sì, attività come l'immissione dei dati e la generazione di report possono essere automatizzate utilizzando software o strumenti. Ci libererà tempo da dedicare a lavori più preziosi. L'automazione migliorerebbe sicuramente la nostra produttività. Dovremmo anche concentrarci sul miglioramento della comunicazione all'interno del team. Qualche idea in merito? Assolutamente. Un'idea è implementare uno strumento di gestione dei progetti che ci consenta di collaborare, condividere aggiornamenti e monitorare i progressi in tempo reale. Sembra un'ottima soluzione. Uno strumento di gestione dei progetti garantirebbe che tutti siano sulla stessa pagina e ridurrebbe i problemi di comunicazione. Qualche consiglio sugli strumenti? Esistono diversi strumenti di gestione dei progetti popolari come Trello, Asana e Monday.com. Possiamo esplorare le loro funzionalità e scegliere quella più adatta alle nostre esigenze. Facciamo qualche ricerca e confrontiamo le opzioni. È importante trovare uno strumento facile da usare e che fornisca le funzionalità di cui abbiamo bisogno. Che dire della formazione? Buon punto. Oltre all'implementazione di nuovi strumenti e processi, dovremmo fornire formazione e supporto al team. Li aiuterà ad adattarsi e ad accettare i cambiamenti. La formazione e il supporto sono fondamentali per una transizione senza intoppi. Possiamo organizzare workshop o fornire risorse online per garantire che tutti si sentano a proprio agio con i cambiamenti. Assolutamente. È importante potenziare il nostro team e creare una cultura dell'apprendimento. Un altro aspetto da considerare è il feedback regolare e le valutazioni delle prestazioni. Quali sono i tuoi pensieri? Sono d'accordo sessioni di feedback regolari possono aiutare a identificare le aree di miglioramento e riconoscere i risultati. Motiva il team a ottenere prestazioni migliori e contribuisce alla crescita complessiva. Il feedback svolge un ruolo significativo nella promozione di un ambiente di lavoro positivo. Dovremmo stabilire un sistema di feedback che incoraggi una comunicazione aperta e costruttiva. È una grande iniziativa. Un sistema di feedback garantirà un miglioramento continuo e rafforzerà le dinamiche del nostro team. Possiamo iniziare con check-in regolari e revisioni dei progressi. I check-in regolari offriranno l'opportunità di affrontare eventuali sfide e celebrare i successi. Manterrà il nostro team concentrato e motivato. Altre idee per migliorare la produttività? Possiamo anche incoraggiare la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra i membri del team. L'organizzazione di sessioni di brainstorming regolari e la condivisione delle migliori pratiche possono aumentare la creatività e l'efficienza. La collaborazione e la condivisione delle conoscenze sono strumenti potenti. Sfruttando le competenze collettive del nostro team, possiamo ottenere di più e trovare soluzioni innovative. Facciamo in modo che diventi una priorità. Non potrei essere più d'accordo. Insieme, possiamo creare una cultura del miglioramento continuo e portare la produttività a nuovi livelli. Sono entusiasta di implementare queste idee. Sono contenta che tu sia a bordo. Con i nostri sforzi congiunti, sono sicuro che possiamo ottenere grandi risultati. Cominciamo e facciamo in modo che il nostro team abbia ancora più successo. Salve Anna, stavo pensando alla nostra sicurezza domestica. D'accordo, ci autorizza a prendere il controllo e garantire la nostra sicurezza. Ciao John. Non potrei essere più d'accordo. È importante stare tranquilli e proteggere la nostra casa e i nostri cari. Come suggerisci di migliorare la nostra sicurezza? Un'idea è installare un sistema di sicurezza intelligente. Ci consente di controllare e monitorare la nostra casa da remoto utilizzando i nostri smartphone o altri dispositivi. Sembra un'ottima soluzione. Con un sistema di sicurezza intelligente, possiamo ricevere avvisi in tempo reale, visualizzare i filmati delle telecamere di sicurezza e persino controllare a distanza serrature e luci. Esattamente. Offre praticità, flessibilità e tranquillità. Possiamo anche prendere in considerazione l'aggiunta di luci con sensori di movimento e telecamere di sicurezza nella nostra proprietà. Le luci con sensori di movimento e le telecamere di sicurezza fungono da deterrenti e ci aiutano a tenere d'occhio eventuali attività sospette. Dovremmo posizionarli strategicamente per la massima copertura. Assolutamente. Una telecamera di sicurezza esterna ben illuminata e ben visibile può scoraggiare potenziali intrusi. Dovremmo anche proteggere le nostre porte e finestre in modo efficace. Rafforzare le nostre porte e finestre è essenziale. Possiamo installare catenacci, rinforzare i telai delle porte e prendere in considerazione l'utilizzo di pellicole di sicurezza sulle finestre per renderle più resistenti. Rafforzare i nostri punti di ingresso aggiungerà un ulteriore livello di sicurezza. Dovremmo anche essere consapevoli della nostra presenza online e adottare buone abitudini di sicurezza informatica. La sicurezza informatica è fondamentale nell'era digitale di oggi. Dovremmo usare password sicure e uniche, abilitare l'autenticazione a due fattori e aggiornare regolarmente i nostri dispositivi e software. L'adozione di queste precauzioni ci aiuterà a proteggere le nostre informazioni personali e a prevenire accessi non autorizzati. Dovremmo anche prendere in considerazione una valutazione della sicurezza domestica. Una valutazione della sicurezza domestica può identificare le vulnerabilità e fornire raccomandazioni per il miglioramento. È un passo proattivo verso il miglioramento della nostra sicurezza generale. Assolutamente. È meglio essere proattivi che reattivi quando si tratta di sicurezza domestica. Dovremmo anche istruire noi stessi e i nostri familiari sulle misure di sicurezza. L'istruzione è fondamentale. Insegnare ai membri della nostra famiglia le procedure di emergenza, ad esempio cosa fare in caso di incendio o effrazione, assicura che tutti siano preparati e sappiano come stare al sicuro. La preparazione è essenziale. Possiamo creare un kit di emergenza con elementi essenziali come torce elettriche, forniture di pronto soccorso e informazioni di contatto per le emergenze. Avere un kit di emergenza prontamente disponibile può fare una differenza significativa in tempi di crisi. Dovremmo anche prendere in considerazione l'idea di aderire a un programma di sorveglianza del quartiere. I programmi di sorveglianza del vicinato promuovono il coinvolgimento della comunità e aiutano a creare un ambiente più sicuro. È un'opportunità per entrare in contatto con i nostri vicini e prenderci cura gli uni degli altri. Costruire una comunità forte e solidale è vantaggioso per la sicurezza di tutti. Dovremmo inoltre rivedere e aggiornare periodicamente le nostre misure di sicurezza, se necessario. La revisione e l'aggiornamento regolari delle nostre misure di sicurezza ci assicurano di stare al passo con le potenziali minacce. Diamo priorità alla nostra sicurezza domestica e mettiamoci in grado di proteggere ciò che conta di più. Non potrei essere più d'accordo. Adottando misure proattive e rimanendo vigili, possiamo creare un ambiente domestico sicuro e protetto. Cominciamo e rendiamo la nostra casa ancora più sicura. Assolutamente. Insieme, possiamo potenziare noi stessi e garantire la sicurezza e il benessere della nostra casa e della nostra famiglia. Prendiamo il controllo e facciamo in modo che accada. Lezione 9. Alla scoperta di Bath & Body Store Ciao Anna. Sei mai stata in questo negozio di prodotti per il bagno e il corpo? Ciao John. No, è la mia prima volta. Ne ho sentito parlare molto bene. Diamo un'occhiata. Assolutamente. Sono entusiasta di vedere cosa hanno da offrire. Il negozio sembra invitante e ben formito. Sicuramente sì. I display colorati e la piacevole fragranza rendono l'esperienza di acquisto ancora più piacevole. Sono d'accordo. L'atmosfera del negozio è rilassante e rilassante. Cominciamo esplorando le diverse sezioni. Buona idea. Vedo che hanno una vasta gamma di prodotti per il bagno e la doccia. Dai bagnoschiuma alle bombe da bagno. Ce n'è per tutti i gusti. È fantastico. Sono particolarmente interessato ai loro prodotti per la cura della pelle. Stavo cercando una buona crema idratante. La cura della pelle è importante e questo negozio sembra avere una varietà di opzioni. Vediamo se riusciamo a trovare la crema idratante perfetta per te. Grazie. Ho notato anche una sezione dedicata ai prodotti per l'aromaterapia. Gli oli essenziali e le candele possono creare un'atmosfera rilassante a casa. L'aromaterapia può essere incredibilmente rilassante. Darò sicuramente un'occhiata a quella sezione. Oh, guarda! Hanno un'esposizione di set regalo. I set regalo sono un'ottima idea per compleanni o occasioni speciali. Possiamo trovare set splendidamente confezionati per uomo e donna. Meraviglioso! Rende molto più facile fare acquisti di regali. Sono anche curioso di conoscere i loro prodotti per la profumazione per la casa. Esploriamo anche quella sezione. Assolutamente! Una piacevole fragranza può rendere una casa più accogliente. Possiamo trovare candele, diffusori e spray per ambienti per aggiungere un delizioso profumo alla nostra casa. Adoro il modo in cui offrono una varietà di fragranze tra cui scegliere. Possiamo sperimentare e trovare quelli più adatti alle nostre preferenze. È fantastico avere delle opzioni. Ho notato anche una sezione dedicata ai prodotti per la cura delle mani e dei piedi. Sembra che abbiano tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un'esperienza da spa a casa. Coccolare mani e piedi è fondamentale per la cura di sé. Sono lieto che abbiano una sezione dedicata a questo. Non dimentichiamo di dare un'occhiata. Sicuramente. Prendersi cura di noi stessi dovrebbe essere una priorità. Oh, guarda! Hanno uno sportello di consulenza per la cura della pelle. Siamo in grado di ottenere consigli personalizzati. È fantastico! È sempre utile ricevere consigli di esperti sulla cura della pelle. Assicuriamoci di usufruire di quel servizio. Assolutamente! Ottenere consigli personalizzati ci assicurerà di scegliere i prodotti giusti per le nostre esigenze specifiche. Questo negozio sembra avere tutto. Sono impressionato dalla varietà e dalla qualità dei prodotti che offrono. Sarà un'esperienza di acquisto divertente e fruttuosa. Non potrei essere più d'accordo. Prendiamoci del tempo, esploriamo ogni sezione e godiamoci il processo di scoperta di nuovi ed entusiasmanti prodotti. Sembra un piano. Tuffiamoci in questa avventura del negozio Butt & Body e sfruttiamo al massimo la nostra visita. Sono emozionato. Andiamo e intraprendiamo questo viaggio profumato e rinfrescante. Sono sicuro che troveremo dei prodotti straordinari per migliorare la nostra routine di cura di sé. Lezione 10. Superare le strette di mano imbarazzanti. Ciao Anna. Hai mai trovato imbarazzante quando qualcuno tende la mano verso di te all'inizio? Ciao John. Mi sentivo un po' a disagio in passato, specialmente in situazioni non familiari. Ma ho imparato alcune strategie per renderlo più comodo. È bello sentirlo. Può essere difficile navigare nei saluti sociali, soprattutto quando si incontrano nuove persone. Quali strategie hai trovato utili? Una strategia è quella di eguagliare il livello di entusiasmo dell'altra persona. Se mi offrono una stretta di mano decisa, contraccambio anch'io con una stretta di mano decisa. Questo è un ottimo consiglio. Aiuta a creare un senso di equilibrio e dimostra che sei coinvolto nell'interazione. Cos'altro fai per gestire queste situazioni? Un'altra tecnica consiste nel mantenere il contatto visivo e offrire un sorriso genuino mentre ci si stringe la mano. Aiuta a stabilire una connessione e rende l'interazione più piacevole. Il contatto visivo e il sorriso possono fare molto per far sentire qualcuno a suo agio. Dimostra che sei accessibile e aperto all'interazione. Qualche altro suggerimento? Sì, è anche utile essere consapevoli delle differenze culturali. In alcune culture, diverse forme di saluto sono più comuni, come l'inchino o i baci sulle guance. Questo è un punto importante. Essere consapevoli delle norme culturali può prevenire malintesi involontari. È sempre utile conoscere usanze diverse. Assolutamente. Dedicare del tempo alla comprensione e al rispetto delle differenze culturali può favorire una migliore comunicazione e creare un'impressione positiva. Fai altro? Un'altra cosa che trovo utile è fare pratica in anticipo. Puoi provare la stretta di mano con un amico o un familiare per acquisire sicurezza e affinare la tua tecnica. È un'idea fantastica. Fare pratica può aiutarti a sentirti più a tuo agio e ad assicurare che la tua stretta di mano sia ferma e confortevole per entrambe le parti. Vuoi aggiungere altro? Infine, se ti senti ancora a disagio con le strette di mano, puoi spiegare educatamente la tua preferenza per i saluti alternativi, come un cenno di saluto o un saluto verbale amichevole. Questo è un ottimo suggerimento. È importante comunicare le tue preferenze con rispetto e trovare un saluto in linea con il tuo livello di comfort. C'è altro che vorresti condividere? Un'altra cosa che vorrei dire è che la pratica rende perfetti. Più ti dedichi alle interazioni sociali e alle strette di mano, più ti sentirai a tuo agio nel tempo. Assolutamente, la pratica e l'esposizione possono aiutare a superare qualsiasi imbarazzo iniziale. Si tratta di acquisire fiducia e trovare il proprio modo autentico di salutare gli altri. Non potrei essere più d'accordo. Superare le strette di mano imbarazzanti è una questione di pratica, consapevolezza e trovare ciò che funziona meglio per te. Grazie per aver condiviso queste strategie. Siete i benvenuti. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Spero che queste strategie possano aiutare anche gli altri a superare più comodamente le strette di mano imbarazzanti. Sono sicuro che lo faranno. Continuiamo a sviluppare le nostre abilità sociali e ad abbracciare nuove interazioni con fiducia. Auguriamo saluti più comodi in futuro. Lezione 11. Trovare l'hotel economico perfetto Ciao Anna. Sto cercando di risparmiare sul mio prossimo viaggio. Penso che soggiornare in un hotel economico sarebbe l'ideale. Ciao John. È un'idea intelligente. Gli hotel economici possono aiutarti a risparmiare denaro pur offrendo un soggiorno confortevole. Assolutamente. Ho sentito che alcuni hotel economici offrono ottimi comfort e servizi a prezzi convenienti. Hai qualche consiglio? Sicuramente. Un'opzione è controllare i siti web di viaggi online. Spesso hanno una vasta gamma di hotel economici con recensioni e valutazioni di ospiti precedenti. Questo è un buon suggerimento. Leggere le recensioni può darmi un'idea migliore di cosa aspettarmi e aiutarmi a scegliere l'hotel giusto. Qualche altro consiglio? Un altro consiglio è quello di considerare la posizione. A volte, gli hotel economici situati un po' più lontano dal centro della città o dalle zone turistiche più famose possono offrire tariffe più basse. Questo ha senso. Purché ci siano comodi mezzi di trasporto nelle vicinanze, stare un po' fuori dalle principali aree turistiche può essere un'opzione economica. Qualcos'altro? Sì, vale anche la pena controllare se l'hotel offre la colazione gratuita. Iniziare la giornata con un pasto incluso può farti risparmiare qualche soldo extra. Questo è un ottimo punto. La colazione inclusa può essere un'opzione comoda ed economica, soprattutto se hai intenzione di esplorare la città durante il giorno. Qualche altro suggerimento? Un'altra considerazione è la dimensione della stanza. Se ti senti a tuo agio con una camera più piccola, spesso puoi trovare tariffe migliori, purché soddisfi comunque le tue esigenze di base. Capisco. Finché la camera è pulita e all'essenziale, una dimensione più piccola non dovrebbe essere un problema. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Mi consiglieresti qualcos'altro? Non dimenticare di confrontare i prezzi su diverse piattaforme. A volte, il sito web dell'hotel potrebbe contenere promozioni o sconti speciali non disponibili altrove. Questo è un consiglio prezioso. È sempre una buona idea fare qualche ricerca e confrontare i prezzi per assicurarsi di ottenere l'offerta migliore. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda che, anche con un budget limitato, puoi comunque trovare alloggi comodi e convenienti. C'è altro che vorresti sapere? Ancora una cosa. Potrebbe essere utile contattare direttamente l'hotel e chiedere informazioni su eventuali sconti o tariffe speciali disponibili. Chiedere non fa mai male. Questa è un'ottima idea. A volte, gli hotel sono disposti a offrire sconti per soggiorni più lunghi o se prenoti direttamente con loro. Vale la pena provare. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Spero che questi consigli mi aiutino a trovare l'hotel economico perfetto per il mio viaggio. Ti auguro un soggiorno confortevole senza spendere una fortuna. Lezione 12. Problemi con la spesa Ciao Anna. Hai trovato tutto sulla tua lista? Ciao John. Quasi tutto. Non riuscivo a trovare uova. Sembrano esauriti. Questo è un peccato. Hai chiesto a un dipendente se ne ha dell'altro nella parte posteriore? Sì, l'ho fatto. Hanno detto che si aspettano una nuova spedizione domani, quindi tornerò allora. Questo è un buon piano. È sempre utile verificare con lo staff eventuali articoli che non riesci a trovare. Cos'altro ti serviva? Sono riuscito a trovare tutto il resto. Frutta, verdura e alcuni alimenti di base per la dispensa. Ma le uova erano l'unico oggetto che mancava. Beh, almeno sei riuscito a ottenere la maggior parte degli articoli della tua lista. A volte è difficile trovare tutto in un solo viaggio. Assolutamente. Sono contenta di aver trovato tutto il resto. Per ora non mi resta che fare a meno delle uova. Potresti anche provare a visitare un altro negozio nelle vicinanze. Potrebbero avere le uova in magazzino. Questo è un buon suggerimento. Controllerò l'altro negozio se ho più tempo più tardi. È sempre bene avere un piano di riserva. Sicuramente. È utile esplorare diverse opzioni e non fare affidamento su un solo negozio. Hai avuto difficoltà a trovare altro? No, tutto il resto era abbastanza facile da trovare. Il negozio aveva una buona selezione e una segnaletica chiara per ogni sezione. È bello sentirlo. Rende l'esperienza di acquisto più efficiente quando tutto è ben organizzato. Sono d'accordo fa risparmiare tempo e riduce le possibilità di perdere qualsiasi elemento nell'elenco. Hai qualche consiglio per fare la spesa con successo? Un consiglio che ho è di fare un elenco dettagliato in anticipo. Ti aiuta a rimanere concentrato e ti assicura di non dimenticare nulla. Questo è un buon consiglio. Trovo sempre utile avere una lista. Mi mantiene organizzato e previene gli acquisti impulsivi. Un altro consiglio è quello di confrontare i prezzi e verificare eventuali promozioni in corso. Può aiutarti a risparmiare denaro a lungo termine. Questo è un approccio intelligente. Risparmiare denaro è sempre un vantaggio. Lo terrò a mente per il mio prossimo giro di shopping. Infine, prendi in considerazione la possibilità di provare alternative economiche. Ad esempio, se le uova sono costose, puoi optare per altre fonti proteiche come fagioli o tofu. Questo è un ottimo suggerimento. Esplorare alternative può essere sia conveniente che introdurre varietà nei pasti. Apprezzo il consiglio. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda che fare la spesa è sinonimo di pianificazione, flessibilità e sfruttamento al massimo delle opzioni disponibili. Lezione 13. Fare piccoli passi Ciao Anna. Ho letto dei vantaggi di fare piccoli passi verso il raggiungimento degli obiettivi. Sembra utile. Cosa c'è dopo? Ciao John. È bello sentirlo. Fare piccoli passi può far sentire i grandi obiettivi più raggiungibili. Il passaggio successivo consiste nel suddividere l'obiettivo in attività più piccole e attuabili. Capisco. Quindi, invece di cercare di affrontare l'intero obiettivo in una volta, dovrei concentrarmi su compiti più piccoli che mi portano a raggiungerlo. Questo ha senso. Esattamente. Suddividendolo, puoi dare priorità alle attività, tenere traccia dei tuoi progressi e celebrare piccole vittorie lungo il percorso. Ti mantiene motivato. Questo è un buon punto. È più facile rimanere motivati quando puoi vedere i tuoi progressi. Quindi, come faccio a decidere con quali attività iniziare? Inizia identificando le attività più importanti che devono essere eseguite per prime. Queste sono quelle che hanno un impatto diretto sul tuo obiettivo. Capito. Quindi, dovrei concentrarmi sui compiti essenziali per andare avanti e raggiungere l'obiettivo. E se mi sento sopraffatto? Se ti senti sopraffatto, è importante fare un passo indietro e rivalutare. Suddividi ulteriormente le attività in passaggi più piccoli e più gestibili. Questo è un approccio utile. Suddividerli in passaggi ancora più piccoli può renderli meno intimidatori. Si tratta solo di fare progressi, non importa quanto piccoli siano. Assolutamente. Il progresso è progresso, non importa quanto piccolo. E ricorda, va bene chiedere aiuto o delegare compiti se necessario. Non devi fare tutto da solo. È un buon promemoria. A volte, chiedere il sostegno degli altri può rendere il viaggio più facile e piacevole. Qual è un altro consiglio che hai? Un altro consiglio è quello di fissare scadenze realistiche per ogni attività. Questo ti aiuta a rimanere responsabile e ti assicura di fare progressi costanti. Stabilire delle scadenze sembra un buon modo per rimanere in linea. Aggiunge un senso di urgenza e mi mantiene concentrato. Qualche altro suggerimento? Sì, ricordati di celebrare i tuoi successi lungo il percorso. Concediti il completamento di ogni attività o il raggiungimento di traguardi. Celebrare i progressi ti mantiene motivato. Questo è un ottimo suggerimento. Celebrare le piccole vittorie aiuta a mantenere una mentalità positiva e aumenta la fiducia. Mi assicurerò di farlo. Grazie. Siete i benvenuti. Sono lieto di poter offrire alcuni consigli utili. Ricorda che fare piccoli passi può portare a progressi significativi nel tempo. C'è altro che vorresti sapere? Ancora una cosa. Come posso rimanere coerente ed evitare la procrastinazione mentre lavoro su queste attività più piccole? La coerenza è fondamentale. Stabilisci un programma regolare per lavorare sulle tue attività e rispettalo. Elimina le distrazioni e rimani concentrato su un'attività alla volta. Capisco. Creare una routine strutturata e ridurre al minimo le distrazioni mi aiuterà sicuramente a rimanere in pista. Grazie per il consiglio. Lezione 14. Lasagna fatta in casa Love Ciao Anna. Hai un piatto italiano preferito da preparare? Ciao John. Sì, mi piace fare le lasagne fatte in casa. Può richiedere un po' di tempo, ma ne vale la pena. Che mi dici di te? Le lasagne fatte in casa sembrano deliziose. Non ho mai provato a farlo prima, ma mi piacerebbe provarlo. Potresti condividere la tua ricetta con me? Certo. È una ricetta di famiglia tramandata da generazioni. Per prima cosa, avrai bisogno di lasagne, carne macinata, salsa di pomodoro, ricotta, mozzarella e alcune spezie. Sembra una classica combinazione di ingredienti. Come si avvia il processo? Per prima cosa, dovrai cuocere le lasagne secondo le istruzioni sulla confezione finché non saranno al dente. Quindi, puoi iniziare a preparare il ragù. Capito. Quindi, dopo aver cucinato gli spaghetti, è il momento di concentrarsi sul ragù. Come si fa? In una padella fate rosolare la carne macinata a fuoco medio. Una volta cotto, aggiungi la salsa di pomodoro e i condimenti come aglio, origano, sale e pepe. Lasciate cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti. Sembra abbastanza semplice. Mi piace che il ragù abbia un po' di tempo per cuocere a fuoco lento e sviluppare i suoi sapori. Qual è il passo successivo? Il passo successivo è assemblare gli strati di lasagna. Iniziate stendendo uno strato di ragù sul fondo di una teglia da forno. Quindi, aggiungi uno strato di lasagne cotte sopra. Quindi, è un processo di stratificazione. Quanti strati crei di solito? Di solito faccio tre strati. Dopo le tagliatelle, spalmate uno strato di ricotta e cospargete con della mozzarella grattugiata. Ripeti questi strati fino a esaurire gli ingredienti. Tre strati suonano alla perfezione. Garantisce un buon equilibrio di sapori e consistenze. Una volta completati gli strati, qual è il passaggio successivo? Dopo l'ultimo strato, cospargere con un po' di mozzarella extra. Coprite la teglia con carta stagnola e infornate a centonovantesima C, 375 gradi F, per circa 25-30 minuti finché non sarà calda e spumeggiante. L'attesa di quel formaggio spumeggiante mi fa venire l'acquolina in bocca. Come fai a sapere quando è pronto per essere sfornato? Saprai che è pronto quando il formaggio sarà sciolto e dorato. Lasciatelo raffreddare per qualche minuto prima di servirlo, perché sarà ben caldo. Sembra un atto d'amore, ma sono sicuro che il risultato finale sia assolutamente delizioso. Qualche consiglio per servire le lasagne? Al momento di servire, tagliatelo con cura in porzioni e usate una spatola per sollevare ogni pezzo. Servitelo con un contorno di pane all'aglio o un'insalata fresca per un pasto completo. Sembra la combinazione perfetta. Non vedo l'ora di provare a fare le lasagne fatte in casa seguendo la tua ricetta. Grazie per averlo condiviso con me. Lezione 15 Breakfast Adventure Ciao Anna, dove andiamo a fare colazione oggi? Ciao John, che ne dici di provare quel nuovo caffè in centro? Ho sentito che hanno dolci fantastici e un'atmosfera accogliente. Sembra perfetto. Sono sempre pronto a provare posti nuovi. Andiamo a concederci delle deliziose prelibatezze per la colazione. Ottimo! Facciamo una passeggiata o prendiamo un taxi. Camminiamo. È una bella mattinata e camminare ci darà la possibilità di goderci l'aria fresca e il paesaggio. Sono d'accordo camminare ci aiuta anche a rimanere attivi e a bruciare calorie prima di assaporare le delizie della colazione. È una soluzione vantaggiosa per tutti. Assolutamente. Inoltre, esplorare le strade a piedi ci permette di scoprire gemme nascoste e apprezzare il fascino della città. Adoro quel senso di scoperta. È come intraprendere una mini-avventura ogni volta che usciamo dalla nostra zona di comfort. Lo è davvero. Provare nuovi posti per la colazione non solo soddisfa le nostre papille gustative, ma amplia anche i nostri orizzonti culinari. Sicuramente. È emozionante assaggiare sapori diversi e conoscere le varie tradizioni della colazione di tutto il mondo. Parlando di tradizioni, hai un piatto o una cucina preferita per la colazione? Sono un fan della classica colazione americana con soffici pancache, pancetta croccante e uova strapazzate. E tu? Non posso resistere a una ricca colazione all'inglese con salsicce, fagioli al forno, pane tostato e una tazza di tè. È il modo perfetto per iniziare la giornata. Oh, sembra delizioso. Dovremmo fare in modo di provare i nostri piatti preferiti per la colazione qualche volta. Assolutamente. È un ottimo modo per condividere le nostre esperienze culturali ed espandere le nostre conoscenze culinarie. Non vedo l'ora. Anch'io. Esplorare cucine diverse e provare nuovi piatti insieme è una delle gioie dell'amicizia e delle esperienze condivise. Non potrei essere più d'accordo. Sono questi piccoli momenti che rendono la vita più vivace e memorabile. Questa è la bellezza del cibo e dell'amicizia. Riunisce le persone e crea ricordi duraturi. Infatti. Insomma, creiamoci dei nuovi ricordi oggi al bar. Sono entusiasta di vedere quali delizie per la colazione ci aspettano. Andiamo e intraprendiamo la nostra avventura con la colazione. Posso già immaginare l'aroma dei dolci appena sfornati. Sarà fantastico. Non vedo l'ora pronti a partire? Assolutamente. Andiamo a soddisfare le nostre voglie. La colazione ci aspetta. Andiamo. Passiamo a una deliziosa colazione e alla gioia dell'esplorazione. Lezione 16. Esplorazione della biblioteca. Ciao, Anna. Mi chiedevo se potessi aiutarmi. La biblioteca è in fondo alla strada e sono interessata a visitarla. Ciao, John. Certo, sarei felice di aiutarti. Cosa stai cercando in particolare in biblioteca? Sono interessato a trovare alcuni libri di storia e biografie. Voglio ampliare le mie conoscenze in queste aree. È un'ottima idea. La biblioteca è un tesoro di libri di storia e biografie. Li troverai una grande quantità di informazioni. È esattamente quello che spero. Ho bisogno di una tessera della biblioteca per prendere in prestito libri? Sì, avrai bisogno di una tessera della biblioteca per prendere in prestito libri. È facile procurarsene una. Basta portare un documento di identità e una prova di indirizzo in biblioteca e ti aiuteranno a ottenere una tessera. Perfetto, mi assicurerò di portare i documenti necessari. Ci sono altri servizi o risorse disponibili in biblioteca? Assolutamente. Oltre a prendere in prestito libri, la maggior parte delle biblioteche offre vari servizi come l'accesso ai computer, sale studio e persino risorse per l'apprendimento delle lingue. Assicurati di esplorare tutto ciò che la biblioteca ha da offrire. È fantastico. Potrei usare l'accesso al computer per la ricerca e le sale studio per un posto tranquillo dove studiare. È fantastico avere queste opzioni. Sicuramente. Le biblioteche offrono un ambiente eccellente per l'apprendimento e lo studio. Inoltre, ospitano spesso eventi e workshop, quindi tieni d'occhio anche quelli. Mi assicurerò di controllare il calendario degli eventi della biblioteca. Sarebbe interessante partecipare ad alcuni laboratori didattici. Grazie per tutte le informazioni. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Le biblioteche sono luoghi meravigliosi per ampliare le proprie conoscenze e scoprire nuovi interessi. Divertiti a esplorare! Non vedo davvero l'ora. Grazie ancora. Apprezzo la tua guida. Vi auguro una proficua visita alla biblioteca. Lezione 17. Negoziare un aumento. Ciao Anna. Stavo pensando di chiedere un aumento al lavoro. Hai qualche consiglio su come affrontarlo? Ciao John. Negoziare un aumento può essere difficile ma ne vale sicuramente la pena. Innanzitutto, raccogli i tuoi risultati e le prove del tuo valore per l'azienda. Questo è un buon punto. Ho tenuto traccia dei miei risultati, quindi ho prove solide a sostegno della mia richiesta. Devo fissare un incontro con il mio capo? Sì, programmare una riunione è una buona idea. Dimostra che apprezzi il loro tempo e consente una discussione mirata sulla tua richiesta. Siate fiduciosi e rispettosi durante la riunione. Allora fisserò sicuramente un incontro. La fiducia è fondamentale e voglio assicurarmi di trasmettere il mio valore all'azienda in modo efficace. Come devo iniziare la conversazione? Inizia esprimendo il tuo apprezzamento per le opportunità che hai avuto in azienda. Quindi, indica chiaramente la tua richiesta di aumento e fornisci i motivi per cui te lo meriti in base ai tuoi risultati e contributi. Sembra un buon approccio. È importante mostrare gratitudine prima di discutere dell'aumento. Mi assicurerò di evidenziare i miei risultati e il modo in cui hanno avuto un impatto positivo sull'azienda. Eccellente è essenziale concentrarsi sul valore apportato e su come si allinea agli obiettivi dell'azienda. Preparati a rispondere a eventuali dubbi o obiezioni che potrebbero avere. Anticiperò le loro preoccupazioni e avrò pronte risposte ben ponderate. Voglio dimostrare di aver preso in considerazione diverse prospettive e di impegnarmi per il successo dell'azienda. È una strategia intelligente. Inoltre, si è aperto alla negoziazione. Potrebbero non accettare l'aumento esatto richiesto, ma mantieni la conversazione costruttiva ed esplora opzioni alternative. Capisco. La negoziazione è un processo bidirezionale e sono disposto a trovare una via di mezzo che avvantaggi entrambe le parti. È importante mantenere un approccio positivo e collaborativo. Assolutamente. Ricorda, anche se inizialmente rifiutano la tua richiesta, non scoraggiarti. Seguiteli e chiedete un feedback su cosa potete fare per aumentare le vostre possibilità in futuro. Non mi lascerò scoraggiare da un rifiuto. La prenderò come un'opportunità per migliorare e lavorare per raggiungere i miei obiettivi. Grazie per la tua guida. Mi sento più preparato adesso. Lezione 18. Pianificare una vacanza. Ciao Anna. Stavo pensando di pianificare la mia prossima vacanza. Penso di volere un mix di avventura e relax. Qualche suggerimento? Ciao John. Sembra un'ottima idea. Che ne dite di considerare una destinazione che offra una varietà di attività, come il relax in spiaggia e le avventure all'aria aperta? Sembra perfetto. Adoro l'idea di rilassarmi sulla spiaggia e anche di esplorare nuove esperienze elettrizzanti. Hai in mente qualche destinazione specifica? Una destinazione che mi viene in mente è la Costa Rica. È nota per le sue bellissime spiagge e le lusureggianti foreste pluviali, che offrono molte opportunità di relax e avventura. La Costa Rica sembra incredibile. Ho sentito che hanno spiagge meravigliose e attività entusiasmanti come la teleferica e l'escursionismo. Ci sono altre destinazioni che vale la pena considerare? Un'altra opzione potrebbe essere Bali, in Indonesia. Offre spiagge tranquille, resort di lusso e la possibilità di sperimentare attività culturali come la danza tradizionale e la cucina locale. Anche Bali sembra incredibile. Sono sempre stato affascinato dalla loro vivace cultura e dai meravigliosi paesaggi. Sarebbe un ottimo posto per rilassarsi ed esplorare. Assolutamente! E se stai cercando un mix di avventura e relax vicino a casa, che ne dici delle Hawaii? Puoi goderti spiagge meravigliose, fare surf e anche fare escursioni attraverso paesaggi vulcanici. Le Hawaii sono sicuramente nella mia lista dei desideri. L'idea di fare surf ed esplorare aree vulcaniche è così allettante. Mi piacerebbe assistere in prima persona alla bellezza delle isole. È una scelta fantastica! Le Hawaii offrono una miscela unica di bellezze naturali e attività elettrizzanti. Non rimarrete delusi! Sarà una decisione difficile. Tutte e tre le destinazioni sembrano incredibili. Dovrò fare qualche altra ricerca e valutare i pro e i contro. Assolutamente! Dedica del tempo a ricercare ogni destinazione e considera fattori come il budget, le restrizioni di viaggio e le attività ed esperienze specifiche che stai cercando. Lo farò sicuramente! Pianificare una vacanza fa parte del divertimento e voglio assicurarmi di sfruttare al massimo il mio tempo libero. Grazie per i tuoi suggerimenti! Siete i benvenuti! Sono lieto di aver potuto aiutare. Qualunque destinazione tu scelga, sono sicuro che trascorrerai una vacanza indimenticabile. Goditi l'avventura e il relax! Grazie apprezzo il tuo supporto! Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio emozionante e creare ricordi incredibili! Ti auguro una vacanza indimenticabile! Lezione 19. Consegna puntuale Salve Anna! Per quanto riguarda le date di consegna, possiamo garantire la consegna entro le prossime due settimane. Ciao John! È bello saperlo! La consegna puntuale è fondamentale per la soddisfazione del cliente. Assolutamente! Il rispetto della data di consegna promessa crea fiducia e crea una reputazione di affidabilità. È importante disporre di processi efficienti per garantire che gli ordini vengano elaborati e spediti tempestivamente. Sì, l'ottimizzazione della nostra logistica e della gestione della catena di fornitura ci aiuta a rispettare le scadenze di consegna in modo coerente. Anche la pianificazione anticipata e la previsione della domanda possono contribuire a consegne fluide e tempestive. Avendo una chiara comprensione delle esigenze dei clienti, possiamo allocare le risorse in modo efficace. E in caso di ritardi imprevisti, è fondamentale comunicare tempestivamente con il cliente. Una comunicazione trasparente sugli aggiornamenti di consegna aiuta a gestire le aspettative e mantenere la soddisfazione dei clienti. Assolutamente! Tenere informati i clienti su eventuali ritardi dimostra che apprezziamo il loro tempo e la loro fiducia. È inoltre essenziale lavorare a stretto contatto con i nostri partner di spedizione per garantire un processo di consegna regolare. La collaborazione con corrieri affidabili e il monitoraggio dell'avanzamento delle spedizioni ci consentono di rimanere aggiornati sulle consegne. E se una consegna incontra difficoltà impreviste, dovremmo affrontarle in modo proattivo e trovare soluzioni. La risoluzione tempestiva di eventuali problemi dimostra il nostro impegno per il servizio e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, disporre di un team di assistenza clienti reattivo può assistere i clienti con qualsiasi richiesta relativa alla consegna. Fornire un eccellente supporto post-acquisto garantisce un'esperienza complessiva positiva per i nostri clienti. E non dimentichiamo l'importanza di informazioni di tracciamento accurate. Consente ai clienti di rimanere aggiornati sui propri ordini. Sì, fornire numeri di tracciabilità e istruzioni chiare su come tracciare le spedizioni può alleviare qualsiasi problema. È inoltre utile offrire opzioni di spedizione rapida per i clienti che richiedono una consegna più rapida. Assolutamente. Offrire flessibilità nelle opzioni di consegna dà ai clienti un senso di controllo sui propri ordini. Dando priorità alla puntualità delle consegne, possiamo superare le aspettative dei clienti e fidelizzarli a lungo termine. E i clienti soddisfatti sono più propensi a consigliare i nostri prodotti o servizi ad altri. Questo è vero il passaparola è prezioso per la crescita e il successo del business. Quindi, continuiamo a dare la priorità alle consegne puntuali e facciamo il possibile per garantire la soddisfazione del cliente. Assolutamente. Il nostro impegno per consegne puntuali ci contraddistingue e rafforza la nostra reputazione. Insieme, possiamo creare un'esperienza di consegna semplice e affidabile per i nostri stimati clienti. Questo è l'obiettivo. Continuiamo a migliorare i nostri processi e a fare della consegna puntuale una priorità.